Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Che stronzo C'è un dodge dietro sicuro da fare Non è stesso niente Ragazzi non è una brutta performance questa Non è eccezionale ma non è brutta Red light, green light Merda che partenza pesante qua L'idea io proverei Va bene Andiamo cosa succede Domani dovrebbe uscire mister beast Merda Sì ma ci sono troppi bundle Sicuramente ci saranno dei bundle tipo da 2000 Solo le build sono bloccate Ma perché le hanno bloccato le build? Non ho capito Quindi serio non si può giocare con le build in altre regioni No ragazzi sembra che non sia possibile farlo Lei usa il martello zio? Eh dobbiamo averlo per forza Grazie Eh sì Qua l'idea è che Qua è un bel casino nettonazzo te lo dico Perché il discorso è Non puoi neanche non prendere le cover in torneo Vero È ovvio zio Ma a parte che cover ci sono C'è il bunker Il discorso è Il martello non puoi non puoi Guarda che ci contestano di già Vabbè Io viro te ci avrai una fetta da 50 Sia de cazzo che de piede Sì 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 Io ho cose grosse nascoste Andiamo È così No 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 Mi piace il rischio Bene così Lo adoro Ah perché sei stronzo no Che te ne c'è il rischio Quando fa questo verso io non lo so Divento caldo Lo vede lo vede No no questo è questo Tipo a 16.000 punti Vediamo se resisti poi Ciao Antonio Grazie dei due Ciao Antonio Grazie per aver rinnovato Un mio amico Grazie Xiex Che è che devo salutare? Mappit Ciao Mappit Cosa che forse non tutti sanno Se mettete i cd vicino Uno vicino all'altro Ok Piano piano Viene composto sul bordo Il logo dei Warpix Made by Sion È il suo Sion doveva incorniciarlo Sion ha una delle Delle 12 copie Che abbiamo fatto speciali Alla prima uscita Ed è giusto che sia così Sa Andiamo 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 Bisogno del coach Bisogno del coach Perché mi ha fatto ridere che ci ha pensato un millesimo e mezzo prima di dire quarti Capito? Ragazzi io vorrevo farvi notare un'altra cosa Vi prego Vi prego andate nella sezione lobby Alle 21 e 18 Eitorek scrive Wait a second Keroro Is going to the bathroom Ma non puoi chiaccare prima Va addirittura al bagno Keroro Ma dicelo Don pisciali Esatto Dovrebbe farlo Ma che cazzo dici? Oh ragazzi Ma qualcosa Se lo fa subito Mi arrabbio Io lo dico Grande cr20 Meherda Oh ragazzi Dio Allora Te lo dico Non sa chi è Devi seguirlo da tempo Con attenzione E precisione Con il camion arriva Tu non li vedi Ma loro credi Sparano proprio a te Snap di qua Snap di la Ma non ho da fare Snap di là Snap di qua Devono andare a Snap di là Snap di qua Questi sono bravi Snap o bravino Snap o bravino Che cosa ci fai di qua? Perché uno te prende Ma poi che cazzo prendi De sto cazzo De Patrick De Fochbob E la stella marina Se le prendi Te fanno pure male Credo Credo che quello Siano le meduse Se le prendi in culo Sì Ma non lo so Penso che siano le meduse Quelle Non le stelle marina Non so lei Cosa facesse Con le stelle marine Sottolineatura 04 Sottolineatura S4 Zabli Merda Grazie MSN C'è sì Poi c'è sì Dovrebbe essere abbastanza innocue 32 miliardi in borsa Non carica i fucili Tranquilli raga Ho shoppato 75 euro Non ferma un cazzo Mi possono succhiare il cazzo In tutto il mondo Ok Pompatemi la bega Coglioni Tuca Andiamo Vediamo queste skin Come sono Fanno veramente cagare Andiamo Allora Ciao sono quello che ha altri 8355 V-Bucks Porco diaz Porco diaz Esci di casa Zio Esci di casa Vivi Stai morendo E non lo sai Non smirare nel box Non smirare nel box Dio Dammi la mila Dammi la mila Dammi la mila Dammi la mila Se questo non smiravo nel box Era giù eh Era giù eh C'è il timer qua sotto E basta Non vi faccio più sentire niente 8 secondi di spoiler 8 secondi 8 secondi di spoiler 8 secondi di spoiler Del dono del tempo Volete rimanere aggiornati? Lippo No a tempo Ioioio 20 Signori la mentality c'è Oddio c'ho anche altre 300 patatine se la vinco Va bene dio mago Buongiorno progetto Adesso vengo su a tirare un po' il culo Buongiorno progetto USA Grazie alle tue live io e la mia ragazza Ci facciamo sempre due risate Ah io sono felice Io sono felice che vi fate due risate Grazie bello Un saluto a lei e alla sua ragazza Oh Grazie di cuoro Grazie di cuoro Mi ti cazzo Azzo Vai Cazzo in faccia Easy Porco Mi ti cazzo Non faccia Merdo ho preso Ho preso Sono l'unico rimasto Ho preso Cazzo in faccia Da Mamma mia Ma pagliaccio tua madre quella puttana succhia cazzi di merda che porco dia me la scopo e me la in culo Quella troia di merda metti il pagliaccio quella puttana di tua madre coglione Io ora mi scopo anche tuo padre mi scopo da quanto cazzo c'hai bisogno di soldi fallito di merda E tra l'altra parte Dai raga ma schermo nero raga Ma raga Ma raga Però porco diaz raga però porco diaz Però porco diaz Però porco Vabbè Io refoundo la bet Non vi pago proprio un bel cazzo di niente Avrei vinto